Prorogati per un anno gli ammortizzatori sociali per i disoccupati rientranti nell'area di crisi industriale di Battipaglia. Una buona notizia per tutti coloro che hanno perso il lavoro a seguito della chiusura delle fabbriche battipagliesi, il cui impatto sul tessuto sociale è stato messo in evidenza proprio dal riconoscimento di area di crisi industriale da parte del Governo. Ora, spiega il consigliere comunale Giuseppe Salvatore, abbiamo bisogno di avviare un'opera di sburocratizzazione con procedure più veloci ed immediate per le imprese sane che vogliono insediarsi.